Cari lettori di Trieste Caffè, siamo col premio Oscar Gabriele Salvatores. Lei ha scelto Trieste per questo suo nuovo film, Napoli New York. Perché questa scelta? A parte l'affetto che ho per questa città, il fatto che lavorare qui mi piace più che lavorare in altri posti perché si sta bene, perché la gente, superato il primo momento di conoscenza, diventa veramente accogliente e amichevole. A parte questo, forse ci abitate e non vi rendete conto, ma questa città è multiforme, ha una quantità di immagini, di possibilità di immagini enorme. Potrebbe essere Parigi, potrebbe essere Vienna, potrebbe... In questo caso New York, con un po' di aiuto però degli effetti speciali col computer, perché quello che manca qua sono i grattacieli, ma ce li metteremo dietro alle costruzioni che invece sono molto interessanti e anche molto vicine a certe cose di New York, Porto Vecchio, ma lo stesso palazzo qui del Savoia Palace potrebbe essere New York, sì. Maestro, grazie. Grazie.